Musica Ha un bilancio pesante quello dell'ultimo fine settimana sulle montagne valtellinesi. Due persone sono decedute in incidenti in quota, entrambi usciti alla ricerca di funghi. Il primo episodio risale a sabato ed è accaduto nei boschi sopra Caiolo. La vittima è Erminio Tognini, 69enne di Postalesio, che era in cerca di funghi quando è precipitato in una zona molto impervia, in località La Costa, a circa 1500 metri di quota. Una persona che passava per caso lo ha notato e ha subito chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino di Sondrio e il soccorso alpino della Guardia di Finanza, oltre all'elisoccorso di Sondrio. Dopo l'accertamento della morte da parte del medico, il corpo dell'uomo è stato recuperato e portato a valle. Erminio Tognini, cavaliere del lavoro che ha trascorso una vita come funzionario improvveditorato agli studi, è stato anche a lungo vice sindaco di Postalesio ed era impegnato come consigliere nella fondazione Albosaggia. I funerali si terranno martedì un pomeriggio proprio ad Albosaggia. Un altro incidente dall'epilogo tragico è avvenuto domenica mattina in Valmasino, in località Sasso Bisolo. Fabio Malandri, 50 anni Brianzolo, abitante a Dardenno, ha perso la vita dopo essere precipitato per alcuni metri. Esperto scalatore, conoscitore e amante della Valmasino, era uscito in cerca di funghi con un'altra persona, è scivolato per alcuni metri e un trauma cranico non gli ha lasciato scampo. La persona che era con lui ha allertato i soccorritori, 5 tecnici del soccorso alpino di Valmasino, intervenuti con i militari della Guardia di Finanza. Le squadre hanno raggiunto l'uomo e l'elisoccorso ha calato con il verricello, il medico e il tecnico dopo l'accertamento della morte, il corpo dell'uomo è stato portato a valle. Urgente mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire a chiunque graviti attorno al pronto soccorso cittadino la doverosa tranquillità, lo sottolinea Fratelli d'Italia Sondrio e in una nota firmata dal coordinatore Francesco Romualdi. Alla luce dell'episodio della notte del 18 luglio si legge quando a un pronto soccorso dell'ospedale di Sondrio e si è registrato il secondo caso di violenze ai danni degli operatori e della struttura in pochi mesi, Fratelli d'Italia chiede maggiori tutele per la sicurezza del personale e dei pazienti, eventualmente istituendo un tavolo tra i rappresentanti degli enti interessati. Prendendo atto della recente promessa della SST Valtellina e Altolario, prosegue Fratelli d'Italia, di introdurre la figura di una guardia giurata nelle ore notturne per regolamentare gli ingressi alla struttura, il coordinamento provinciale di FDI auspica che la misura sia adottata in tempi brevi, sottolineando come le esigenze di sicurezza di operatori e pazienti rendano assolutamente urgente il provvedimento. Morbegno guarda già al Carnevale e così, nonostante la piena estate, ha presentato il progetto del carro allegorico disegnato a Via Reggio che segnerà nel 2024 il ritorno della città alla tradizionale sfilata tra le più note in provincia. Con largo anticipo, ma con il tempo che ci vuole, ci siamo mossi, ci siamo organizzati, stiamo movendo i primi passi e oggi è stato presentato il bozzetto di quello che sarà il carro simbolico del Carnevale di Morbegno 2024. Quali sono le caratteristiche di questo carro? La caratteristica fondamentale sarà rappresentata da Mr. J che è il simbolo nato lo scorso anno con il nome scelto dai bambini arrivati a Carnevale Bimbi di febbraio e con i colori delle contrade, quindi un richiamo forte locale di vivacità, di passione, insomma i colori sono vita, ci saranno simboli di pace, di amore, di libertà. Il tutto sarà contornato da gruppi locali e non locali che pian piano andremo a contattare anche in collaborazione con gli istituti scolastici. Prestigiosa la collaborazione scelta per progetto e realizzazione del carro, affidati proprio a uno dei più noti carristi di Viareggio. Ho avuto esperienze in tantissime parti del mondo in Italia e credo che ogni Carnevale abbia la sua particolarità. Vedete che Viareggio per i carri è ormai riconosciuto come il numero uno al mondo, però non bisogna smettere di ricercare, di fare ricerca anche negli altri Carnevali. Se poi possiamo portare un po' di esperienza perché è bello portare la festa, no? Il Carnevale è la cosa più inutile che c'è però è indispensabile. Come amministrazione la nostra volontà prima di tutto è quello di far sì che il Carnevale continui ad essere una festa per i bambini. Il Carnevale di Morbegno arriva da una tradizione storica che è quella del Carnevalissimo e anche per questo abbiamo coinvolto anche l'amministrazione provinciale e il BIM. Una delle sfide fondamentali è quello di riattivare la partecipazione dei volontari e dei cittadini. La nuova Sondrio Calcio torna in campo. Mercoledì 26 luglio i Biancazzurri saranno di scena alla Castellina agli ordini di mister Fabio Fraschetti. Intanto la campagna acquisti della nuova Sondrio può dirsi praticamente conclusa salvo sorprese. Il direttore sportivo Cristian Salvadori ha praticamente completato la rosa. Così il club ha tesserato Brian Rios, talentuoso fantasista argentino classe 95 e Franco Pasini, jolly di centrocampo. Brian è un giocatore straordinario per qualità, afferma Salvadori. Ha una grande tecnica abbinata a una rapidità di piede di pensiero. Piccolo solo nel fisico ma grande nell'estro, ha giocato fino alla Serie B argentina. Cresciuto nell'Anus, una fucina di talenti, è stato anche protagonista nelle trafile giovanili della nazionale argentina fino all'Under 18. Per lui è la prima esperienza in Italia. Pasini invece ha un motorino di centrocampo duttile e versatile, prosegue il direttore sportivo. Banda esperienze in eccellenza calabrese tra le fila della Palmese. Un infortunio ne ha condizionato il rendimento nella scorsa stagione, ma questa sarà per lui occasione di riscatto. Nelle mie squadre utilizzo spesso un giusto mix tra giocatori che vengono da campionati vinti e altri in cerca di rivincita. Inoltre sono in arrivo dalla Colico Derviese anche due ragazzi promettenti del 2005. Si tratta di Simone Moncecchi, terzino sinistro, e Pietro Zecca, difensore centrale, adattabile anche al ruolo di terzino destro. Entrambi hanno manifestato grande interesse nel vestire i nostri colori, indica Salvadori. Sono rimasti impressionati nella penultima giornata di campionato quando vennero a Sondrio e questo, unito al fatto che li reputo ragazzi ambiziosi con ampi margini di miglioramento, ha fatto sì che le strade prendessero la stessa direzione. Lavorare bene porta a questi risultati, ragazzi del territorio, che sposano con onore il nostro progetto. In quest'ottica inoltre farà parte della Rosa anche Filippo Duca, esterno sondriese ex olginatese e Nicola Salves, portiere classe 2003 di passaporto portoghese con un'esperienza in Italia.